Il punto di vista sociologico è che la povertà ormai è pervasiva di tutti i ceti e diciamo che i cittadini che sono in condizione di bisogno li possiamo dividere in due categorie. Quelli che sono proprio le fasce deboli, che hanno proprio bisogno di un'assistenza che però deve essere a un miglior livello qualitativo e quelli che invece sono in quella che viene definita la sofferenza dal lavoro, cioè la mancanza di lavoro a cassa integrazione e quant'altro. Per questi occorre davvero cominciare a creare dei progetti strategici e strutturali creando il più possibile con tutte le forze presenti nei territori delle opportunità perché possano entrare nel mondo del lavoro. Solo così si potrà combattere effettivamente la povertà dando a queste persone delle prospettive per la loro vita e soprattutto per la vita dei figli perché non dimentichiamoci che laddove c'è un padre che non ha presente e che non può quindi, tanto per dirne una, far studiare il proprio figlio, voglio dire che quel ragazzo lì non avrà un futuro migliore di quello del padre. Questa è una logica in cui bisogna far intervenire tutte le forze, l'Inps va bene, ma anche tutte le forze sul territorio, soprattutto quelle produttive che a loro volta vanno sostenute per creare appunto questa opportunità di occupazione. Diversamente saremo sempre qui a contare in milioni di persone quelli che sono in condizione di povertà.